80 anni fa, era il 5 settembre 1938, nella tenuta di San Rossore furono firmate le leggi razziali e antisemite italiane che codificavano in norma i cosiddetti provvedimenti per la difesa della razza. La Toscana ha voluto ricordare quella data terribile nel corso di un'intensa giornata iniziata con la deposizione di una corona di alloro nel cimitero monumentale ebraico di Pisa e poi davanti alla targa che dal 2012 alle cascine vecchie della tenuta di San Rossore ricorda la promulgazione delle leggi e la persecuzione degli ebrei, furono oltre 670 quelli deportati. Di questi ne sono tornati pochissimi, pochissimi sono tornati e la Toscana poi ha dato un tributo di sangue alla ritirata dell'esercito nazista con le stragi che sono state compiute dal sud della Toscana fino a Sant'Anna Ristazzema, stragi fatte dai nazisti, spesso coadiuvati, supportati, stragi fatte insieme ai militanti della Repubblica Sociale di Salò che erano fascisti. Ricordare la storia non significa che la storia si ripeta poi in modo identico perché non accade mai ma significa prendere le lezioni dalla storia e oggi viviamo tempi che per certi aspetti hanno analogie con quei periodi che dettero vita a questo mostro che è stato il nazionalsocialismo in Germania e il fascismo in Italia. Alla giornata di San Rossore hanno partecipato tra gli altri anche la vicepresidente della regione toscana Monica Barni, il sindaco di Pisa Michele Conti, il rettore dell'università di Pisa Paolo Mancarella e la presidente dell'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane Noemi Di Segni per rivolgere un messaggio soprattutto ai più giovani e stimolarli a capire cosa avvenne tra quel terribile giorno di 80 anni fa e il 1945. È importantissimo essere qui tutte le istituzioni della regione e anche le università della regione per ricordare simbolicamente questo giorno ma anche ribadire il nostro impegno fortissimo in particolare nei confronti delle giovani generazioni perché conoscano che cosa è stato, perché siano stimolati anche loro verso una conoscenza più approfondita perché non cedano all'indifferenza e non si facciano irritire. Anche per questo da San Rossore la regione toscana ha lanciato un fitto programma di iniziative organizzate dalle università toscane, convegni, seminari e incontri per mettere in guardia da intolleranze e razzismi mai sopiti e per capire cosa abbia spinto a sostenere la superiorità di una razza su un'altra. Anche per questo il mondo accademico proprio dalla Toscana ha deciso di chiedere pubblicamente scusa per aver avvallato all'epoca anche nel silenzio complice le leggi razziali fasciste. È una cosa unica, non è mai stato fatto, io non ricordo che le istituzioni accademiche abbiano mai preso le distanze in modo così solenne da quegli tragici infami eventi di allora, quindi glielo ho detto, lo sentivo proprio come dovere. Un dovere che nel corso della giornata si è concretizzato anche nella mostra 1938 La Storia, ricordo su esclusione e persecuzione ebraica ideata e realizzata dalla Fondazione Museo della Shoah inaugurata appunto a San Rossore. Articoli, foto, manifesti, documenti e giornali dell'epoca, molti dei quali inediti, per raccontare il 1938 della persecuzione degli ebrei, del lavoro obbligatorio, dei limiti imposti alla proprietà. Pisa o San Rossore forse casualmente come luogo che diventa famoso per una firma è diventata un punto di riferimento fondamentale per una riflessione su quelle che sono responsabilità ad 80 anni da questa firma. Responsabilità di chi all'epoca ha firmato, ha agito, ha implementato, ha attuato e in qualche modo collaborato anche indirettamente e responsabilità di chi nel corso degli 80 anni evidentemente non ha colmato un vuoto culturale, educativo, valoriale e che oggi ci porta ad assistere ad altri atti di violenza contro diverse categorie, parole, gesti, anche violenza fisica. E quindi se questo è quello che viviamo oggi forse qualcosa è stato mancato. Ed è proprio contro queste mancanze del recente passato che la giornata a San Rossore, nel corso della quale si è svolto anche un pranzo con i giovani ebrei e i rappresentanti delle comunità di immigrati, ha voluto lanciare un messaggio abbracciando anche le seconde generazioni di chi è immigrato in Toscana in modo da costruire un futuro senza razzismo, perché se anche la storia non si ripete mai uguale a se stessa, certe condizioni economiche e sociali ciclicamente possono tornare. Anche allora c'era la tendenza in Germania ad considerarsi vittime della guerra, così come in Italia, la vittoria mutilata, i vincoli finanziari imposti alla Germania, anche allora ci furono problemi di immigrazione, parlarono in Germania di invasione dall'est, soprattutto ebrei che si ritiravano in conseguenza della guerra mondiale e della vittoria della rivoluzione bolshevica ad est. Anche allora c'era una grave crisi economica. Non a caso, proprio nel corso dell'intensa giornata a San Rossore, il presidente Enrico Rossi ha lanciato l'idea di un luogo di incontro e ascolto in cui istituzioni e comunità di stranieri che in Toscana vivono si possano parlare e confrontare. Se ne ha parlato nel confronto partecipato con una cinquantina di giovani in rappresentanza delle seconde generazioni di immigrati, dedicato alla diversità come valore e alla formazione come garanzia di rispetto delle diversità. La necessità dipende ovviamente dal nostro attivismo e dalla volontà che ci mettiamo nel costruire ovviamente un'idea di un'Italia plurale e che sia significativa per tutte le persone. Credo che la giornata di oggi si cerchi di ribadire un concetto abbastanza semplice, ossia che l'Italia appartiene a chiunque la viva con rispetto e identificandosi nei valori e nei principi della Costituzione italiana. La partecipazione a questo evento è stata un'occasione molto importante per fare rete, conoscere altre realtà nel territorio toscano e anche soprattutto essere presenti per creare e porre le basi di un dialogo con le istituzioni da parte dei giovani. Da San Rossore è stato rilanciato anche il manifesto delle nuove generazioni italiane che immagina e getta le basi di una scuola capace di gestire la multiculturalità in funzione della parità dei diritti civili e politici, della valorizzazione della cultura di origine in connessione stretta con quella italiana. Se abbiamo un numero adeguato di imprese commerciali si deve all'intraprendenza di chi venendo da fuori ci prova, prende una licenza commerciale e decide di lavorare anche in proprio. Quindi sono anche un elemento di ricchezza, l'immigrazione allo stesso tempo è un problema da affrontare, il nostro nemico è la chiusura e l'intolleranza e il razzismo, senza rinunciare ai nostri valori. Propositi suggeriti dai fantasmi di un tempo che sembra lontano ma che le immagini e gli articoli di stampa dell'epoca insieme alla memoria di chi ancora ha la forza di raccontare disegnano come un avvertimento, un invito a non abbassare la guardia contro il risorgere di odio e intolleranza. Contro tutto questo noi bisogna ergere un argine alto, forte, sapere che con i problemi dell'integrazione dobbiamo confrontarci, che sono problemi, che l'integrazione non è una passeggiata, ma se non ci confrontiamo con razionalità a quei problemi rischiano di risolvere, di rinascere i mostri del passato. E questi mostri devono far di nuovo paura, ricordare la storia e ricordare che qui fu commessa a quell'infamia di promulgare le leggi razziali io penso faccia particolarmente bene oggi. La Regione Toscana fa molto in questo senso, ci sono tantissime iniziative che già facevamo in passato, le continueremo con ancora più convinzione. Grazie.